Busta paga, non è che il lavoratore ci rimette? Allora, tra le voci più critiche, quella delle piccole imprese, lo abbiamo sentito nel servizio, allora con noi in studio c'è Daniele Baccarino, presidente di CNA, aderente a Rete Imprese Italia, grazie per essere con noi. Buongiorno. Le chiedi innanzitutto di farci capire che cosa rappresentano questi soldi del TFR per le piccole imprese. Premesso che alla mia associazione, alla CNA, ma anche a Rete Imprese Italia, non piace apparire al partito del signor no, quindi noi discutiamone ad una condizione che non sia un ulteriore costo per le nostre aziende. Come si è visto prima dal servizio, una parte maggioritaria è rappresentata dal TFR all'interno delle piccole aziende e non ci sono oggi le condizioni assolutamente affinché l'azienda possa tirar fuori questo denaro, quindi ci vuole un aiuto. Ecco, vogliamo elencare magari per punti quali sono proprio le perplessità che avete rispetto a questa operazione prospettata? La prima perplessità è che le nostre aziende in genere non sono riuscite, o se sono riuscite sono riuscite nel passato, non sicuramente in questi sei anni di crisi gravissima non sono riusciti a mettere da parte i soldi del TFR, quindi di fatto rappresenta una liquidità per l'azienda. Quindi il TFR non è un costo aggiuntivo, è una liquidità mancante, qualora non ci fosse. E oggi il sistema bancario che già rifiuta tutti i finanziamenti alle piccole imprese sicuramente non è in grado di sopperire a questo. Ma aggiungo, qualora anche lo fosse, lo applicherebbe degli interessi. E chi li paga? Quali possono essere delle proposte alternative a questa per far ripartire i consumi, la domanda interna? Ma indubbiamente siamo tutti convinti che uno dei problemi maggiori dell'Italia, e lo è in particolar modo per il sistema delle piccole imprese, che vive di mercati locali, è quello del consumo interno. Quindi noi per questo, non dicevo, non apparteniamo al partito del signor Noc, e quindi assolutamente non si prende in considerazione. Si possono prendere in considerazione variabili forti, ma deve esserci chiarezza, deve esserci chiarezza su come questo danaro, che attualmente nelle casse delle imprese non c'è, perché è stato utilizzato per reggere il mercato delle piccole imprese, in questi anni è riuscito a tenere un po' sull'occupazione, perché i piccoli imprenditori, gli artigiani, hanno messo tutto ciò che avevano, hanno messo la loro azienda, la loro famiglia, i loro depositi personali, hanno investito tutto ciò che avevano per reggere e per mantenere l'occupazione, perché le piccole imprese hanno una grande attenzione ai confronti della loro mano d'opera, soprattutto specializzata. Quindi oggi non ci sono proprio le condizioni materiali affinché questo danaro possa uscire. Grazie a Daniele Vaccarino di Rete Imprese Italia, grazie per essere intervenuto.